In molti potrebbero rispondere alla signora Patrizia che le figlie Alessandra e Allegra non vogliono più vederla dato che fu lei a commissionare l'omicidio del padre nel 1995. Eppure la realtà è più complessa di quel che sembra perché durante il processo e la detenzione di Patrizia le sue figlie, rampolle del jet set internazionale, hanno continuato a vedere la madre, hanno reso la sua detenzione in carcere meno dura inviandole denaro, abiti e accessori, hanno frequentato sempre la nonna Silvana Barbieri facendo sentire la loro vicinanza a Patrizia. Eppure ora che la mamma è una donna libera, ora che ha estinto il suo debito con la giustizia c'è un muro, colpa forse del vitalizio, di quei soldi, tanti che comunque dovrebbero provenire dalle due donne, le eredi della fortuna Gucci, oggi vivono in Svizzera, a Sam Moritz, hanno avuto qualche bega col fisco italiano ma conducono una vita molto agiata, hanno venduto una delle loro proprietà, un appartamento a New York per 45 milioni di dollari, oggi sono madri a entrambe ma sembra che non abbiano più permesso a una Patrizia ormai disperata di vedere i nipotini. Questioni morali o questioni di soldi, una volta ad influenzare Lady Gucci c'erano i tarocchi e le strampalate idee della maga Pina Auriemma, oggi dietro queste schermaglie familiari sembrano esserci delle cifre, cifre rigorosamente a 6-0.